Ciao a tutti, volevo invitarvi a Festivale, prima edizione, no non qui a Bologna, a Cecina. Il 24 e il 25 giugno, questa settimana, venerdì e sabato, dalle ore 19, non so dove sto guardando, scusate. Ci saranno un sacco di super ospiti, non proprio lui, il direttore della fotografia, Tovoli, ma moltissimi altri, Paolo Ruffini, Graziano Salvadori, Paolo Bianchini, il grandissimo Francesco Salvi. Ci sarà da mangiare, da bere, da divertirsi, da ridere, da piangere, probabilmente. E spero possiate partecipare. Festivale, Festival del Cinema Resiliente, 24 e 25 giugno al Parco di Villa Guerrazi a Cecina.